Sto per partire e ovviamente mi sono comprata un sacco di nuovi outfit da portare in viaggio con me. Tra l'altro magari riuscirete anche a intuire la meta del mio viaggio dai vestiti che ho acquistato. Iniziamo benissimo con un cappello, ma lo provo anche con voi. Cosa ne dite? A me sinceramente piace tantissimo e potete anche legarlo, perché in questo posto c'è anche abbastanza vento. Mi sono innamorata di questo set. È stupendo! Mi piace tantissimo. Ha tutte queste fragoline e già me lo immagino sulla spiaggia. Ho preso questo toppettino che è abbastanza trasparente, infatti lo utilizzerò magari sopra ai costumi. Ho preso anche questo toppettino bianco e nella versione nera. Questi sono sempre utili quando si viaggia. Questi sono pantaloni tipo del pigiama, ma io li utilizzerò anche direttamente sopra al costume. Bellissimo anche questo toppettino, che è tutto bucherellato, quindi sempre copricostume. Che ha questi cuori e queste ciliegie ricamate. Ho anche preso un foulard, sempre per la questione vento, perché a me dà fastidissimo alle orecchie. Devo dire che ci ho dato dentro quei colori. Questo vestito è super svolazzante. Sicuramente lo metterò con un reggiseno senza spalline. E secondo me questo anche per la sera è bellissimo. Già che c'ero ho anche preso queste maschere di pixie, che sono apposta ad applicare dopo essere stati esposti al sole. Quindi utilissime. Ho anche preso dei nuovi occhiali da sole, che non guassano mai. Che ne dite? Come mi stanno? A me piacciono gli occhiali da sole belli grossi. Ho preso anche questa tuta bella larga, con gli shorts e una felpona oversize. Questi sinceramente non vedo l'ora di metterli una sera. Sono degli orecchini a forma di fiocchetto tutti neri, troppo troppo carini. Ho preso anche una serie di t-shirt oversize. Questa tra l'altro sul retro è stupenda. Queste sono comodissime da mettere sopra il costume, così non devo neanche pensare all'outfit. Ah, e poi ho trovato anche questo infradito. Secondo me utilizzerò tantissimo, perché sono comunque in plastica, quindi facilmente lavabili. Però sono molto carine, quindi me le vedo anche con un outfit serale. E poi hanno il platform, cosa per me fondamentale. E se vi state chiedendo come mai non ho preso nessun nuovo costume, questa è la risposta. Quindi sì, io dovrò anche iniziare a fare la valigia. Voi intanto provate a indovinare dove sto per andare e tra qualche giorno si parte.